Nicola Locci in Non dimentichiamo di Yolanda Restano La lacrima che lascia la guancia bagnata non deve essere dimenticata. Il dolore che lascia il corpo sfregiato non deve essere dimenticato. Le baracche, il freddo, i corpi denutriti non devono essere dimenticati. Gli occhi dei bambini, le grida, i silenzi, i volti oltre i fili spinati non devono essere dimenticati. Perché se dimentichiamo questo dolore, se chiudiamo occhi e orecchie al dolente ricordo, rischiamo che l'orrore possa ripetersi.